Ciao ragazzi, benvenuti a Milano. Oggi siamo qui nel Teatro Gerolamo. E celebriamo la nuova Marciano Gatsby collection. E non possiamo aspettare per vi divertirlo. Seguite. Ho scritto il mio outfit, un abitino con gli strass che io adoro mettere con lo stivale. E cosa dire, ispirata agli anni venti in una serata bellissima con una atmosfera. Anni venti ragazzi, anni venti, stasera ci siamo divertite tantissimo. Questa serata di venti è stata meravigliosa a teatro. Quindi grazie e a presto. Grazie. 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 Grazie.